amici e guardoni degli scacchi ben ritrovati giochiamoci una blitz stravagante sto giocando da canni sti giorni ma tant'è proviamo ancora con e4 anche se io più passa il tempo più eccola qua io la detesto siciliana la detesto però guardavo sulla scacchiera di analisi una variante interessante chiusa con cavallo in c3 cavallo in e2 fianchettero e via che si va così ok vediamo cosa succede intanto vi invito a mettere like ea iscrivervi al canale il mio amico qui è jremedio 1978 mi ha giocato già no un giocatore nuovo perché al punto di domanda appena creato l'account qui minaccia gli spari temporeggiamo minaccia ancora gli spari io potrei pam 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 potrei anche roccare e me ne sbatto va bene ok vien giù capitano della nave viene giù diciamo d3 facciamo f4 noi ci espandiamo su questo su questa parte sul lato direi lui si espande di qui vediamo nella variante che ho visto che mi consigliava l'icess su queste spinte la scacchiera di analisi l'icess c'è cavallo cavallo centralizzato in d5 poi col cambio l'alfiere tiene tutto bisogna vedere se gioca e6 lui però se gioca e6 si indebolisce un po le case scure andiamo con f4 va la rocco corto f5 troppo vero andiamo su quei pedoni vediamo cosa succede poi ci leviamo da sta diagonale magari che può diventare calda anche subito e5 potrebbe essere interessante difficili queste posizioni chiuse così eccolo eccolo che arriva anche questa può avere senso per provocargli di 6 però poi il cavallo mi resta stupido niente andiamo qua al centro presa presa tempo sul cavallo vediamo dove va con quel cavallo lì ah glielo cambiamo lui mi da scacco io scappo e poi vediamo come si evolve la situa esatto via ok blinda tutto io vorrei fare c3 però devo sostenerla la sostengo con perché se gioco donna donna di 2 lui può 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 fare cosa niente c3 allora magari con l'idea poi di mettere questo alfiere qua ok dunque c2 presa presa l'alfiere se ne va io posso giocare c4 con debita preparazione anzi l'alfiere in b2 poi c4 vediamo interessante lui ha questa catena poderosa qua così vediamo 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 non è una partita facile questa eh allora c3 abbiamo detto vero presa lui se ne va io adesso posso giocare questa e questa ah qui cambia eh ragazzo va bene allora io blocco le case chiare o no presa presa si proviamo così si questo alfiere sbatte un po' però vediamo ci sta anche poi magari metterlo qui in e4 finalizzata ba buha vabbè vediamo se prende io riprendoho lo suo tempo con tempo sull'alfiere se non se bla 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 barabaus si fa doppiare i pedoni però ok questa è interessante ah poi gioca magari questa però Così Proviamo così Disturbiamo la donna Qui se ne cavo un ragno dal buco Qui presa presa No Torre D2 magari Torre F2 voglio dire Ultradifendo la traversa Magari vengo qua Cerco di entrare Ah guarda Good morning Good morning Bella, bella manovra Facciamo così E poi così Perché se Se avessi fatto Invece di mettere la torre Non si avessi fatto Alfie R4 Presa Presa Poi partiva questo pedone Un C4 Un C4 Ah astuto Astuto Però c'è questo sotto Se serve a qualcosa Non so Mi impedisce con la spinta Mi impedisce con la spinta H5 Naturalmente mi impedisce G4 Eh non è un pollo Almeno Penso Non so Non lo so Non credo che sia un pollo Dura è dura Qua è dura Ah e il tempo fugge Il tempo fugge Mi disturbo aver così poco tempo Facciamo così Adesso lui può entrare da qualche parte Magari Qua giù in ultima Non so Qui un'idea è anche Attacca la torre Niente Qui dobbiamo tornare Qui ci sta anche questa Questa Vediamo Chiudere subito la bottega Dei sapori Adesso posso entrare in ultima Però Cacchio al tempo Gente Scacco Così Può parare Può fare qualcosa qua No Vediamo un po' Evviva Ecco Interessante variante Di siciliana chiusa Consigliata dalla scacchiera Di analisi di licesse Facciamo un'analisi veloce Via Bella 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 Mi è piaciuta Intensa Lui si è scoperto Lui si è scoperto L'ultima traversa Troppo Vediamo un po' 80 87 Vabbè Due errori gravi Però Vediamo Se vi fa piacere Analizzare insieme Questa partita Vediamo un po' Io ecco Guardavo appunto Il motore di licesse Dunque io ho un problema Contro la siciliana Ci sono un miliardo Di varianti Variante Chameleon Bello Dicevo Ci sono un miliardo Di varianti Nella siciliana aperta Io non le conosco Ma prendo sempre Le mazzate E notavo Che il computer Qua Ecco Qua Preferisce Cavallo c3 Invece di cavallo f3 Ho detto Bu Andiamo a vedere Cosa succede Con cavallo c3 Mi piace Siciliana Cos'è Camaleonte Chameleon Qui tutto bene Sì va bene Non ha vantaggio Gioco già pari Qui tutto bene Arrocco Va bene Ok 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 H3 Forse Fin troppo Fin troppo prudente E5 Voleva il computer Ci sta Ci sta Sì era meglio E5 Qua Cavallo Cavallo di 5 Non gli piace Voleva cavallo a4 Quella che avevo pensato io Però resta un po' Inga E beh si può giocare Poi col tempo Ah no Beh ci sta Ci sta È vero Cavallo a4 Poi si fa con calma B3 Si mette l'alfiere E il cavallo difende l'alfiere Io l'ho messo qui Presa 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 Via Donna d2 Qui O donne 2 Anche g4 Gli piace Questa è buona B7 B7 Quell'alfiere lì Non fa niente Da quella parte lì Infatti poi avete visto Che l'ha girato Da questa parte di qua Perché qui sbatte L'alfiere Questa è una Imprecisione posizionale Dicevo C3 Migliore Top Presa Presa Lui se ne va Io adesso ho giocato Alfiere b2 Gli piace Donna c2 Gli piace Torre a2 Sì sì Non pessima Ma va bene Questa non è buona Neanche a me è piaciuta La torre In a8 Donna b6 Era più forte Sì Decisamente più forte Fa pressione Sull'alfiere Questa è un po' Una perte di tempo Io ho spinto Adesso la giocata Qui però cambio Gli rompo i pedoni Ecco Questo è un errore Anche questo E questo pure Mi è un errore Dunque questo è un errore Perché Perché permette Donna b2 Però io ho visto Donna b2 Torre b8 Non mi sembrava Così risolutiva Vediamola un attimo Donna b2 Attacca l'alfiere Lui addirittura Consiglia l'alfiere c8 E su questa È vincente Torre a1 Torre a1 Ah cavolo Ho intrappolata la donna Qua Non ha case di fuga Che figata Bella Sottile Non l'ho vista Non l'ho vista Io avevo visto Sì Donna b2 Però su torre b8 Però su torre b8 Poi non vedevo Cosa potesse fare Cioè non vedevo Un vantaggio Invece c'è la sua donna Intrappolata Bella Io ho giocato così Per difendere la traversa Ecco lui gira l'alfiere Difendo il pedone Giusto Qui se giocavo Alfiere 4 Era persa la partita Infatti Perché Presa Presa E poi parte questo Questo l'avevo visto Bene o male Quindi ho giocato Torre d2 Spinta Presa Buona H5 Buona Da un pedone Che non serve a niente Però E mi impedisce Di giocare g4 Che secondo me Ci sta Vera forte Ma lui Non gli interessa Il motore Donna a3 Non gli interessa Vabbò Prendo il pedone Raddoppia Cambio Cambio Mossa per molestare Così Mi attacca la torre Torno a difenderla Non va Qua voleva Donna per d6 Addirittura Donna per d6 Donna per d6 E su Donna per d2 Ah io prendo con scacco Lui va in g7 Donna e 5 con scacco E vinco con la maggioranza di pedoni al centro Tendenzialmente Però è un po' pericolosa questa linea Perché C'è da stare attenti L'alfiere è inchiodato C'è da stare attenti ai lavori di questo tipo Prende Anzi Sì Prende magari con l'alfiere Poi Viene qua Mi attacca al pezzo inchiodato Secondo me io ho scelto un approccio un po' più sicuro Che è quello di rientrare in difesa Lui attacca Io vado ad attaccare la donna Ecco qui c'è l'errore però Qui era difficile difendere Bisogna giocare donna e 1 E cambiare Donna e 1 Presa 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 Magari torre di 2 Vediamola un attimo Donna e 1 Qui bisognava prendere per forza Perché se no c'è il matto C'è il matto qua Presa Presa Torre a 3 è più attiva Sì torre di 2 è un po' passiva Torre a 3 è un po' più attiva Oppure torre a 6 vuole lui Per contraattaccare Sì pari Posizione pari però Ecco entra così Questa secondo me Dunque l'idea è di attaccare il pedone Due volte Però lascia troppo scoperta L'ultima attraversa Errore Bisogna cominciare con donne e 8 Scacco Impreciso Cosa doveva fare qua? Re H7 Non c'era il matto lo stesso Vediamo un po' Re H7 E con la donna giù Ah rientrava O comunque difendeva H8 Bello Eh queste sono finezze Signori Scacco Lui non lo vede però Entro E basta Qui si può ancora difendere Con Re H6 E sullo scacco Ah no Lo scacco in fondo Non si può dare E' vero che c'è questa? Non l'ho vista Cavolo E' vero Io ero già pronto a fare Donna H8 E buttavo tutto nel cesso Qui bisognava prendere Come dire A mia difesa Come avete visto Avevamo pochi secondi Bene Partita interessante Ecco la linea della siciliana Chameleon Adesso carico il video Così la vedete anche voi Idea interessante Per togliere dalla comfort zone L'avversario si gioca siciliana Perché di solito Uno si prepara su linee aperte Della siciliana Per lo più Interessante Un po' turbida Posizionale Interessante Va bene cari Like e iscrizioni Vi ricordo E fate sempre molto molto I bravi Ciao Ciao